... andando indietro e metto la linea è un attacco e un contrattacco perché devi la prenderla? questo è quello che faccio fare volutamente cambiando dall'atteggiamento di ripetizione di parate a un movimento in avanti spesso e volentieri quando vengono in avanti vanno ancora a prendere il tempo questa è una dimostrazione sì 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 in pratica io arretto riprendiamo questo e lì per andare l'interno anziché tirare la cavazione vanno a prendere il ferro non è neanche che gli allunghi non è che a spesso qua su questo spesso non serve perché stai già lì davanti beh ciao continuare da qui continuare da qui e il resto non ho fatto e il nostro è un deficiente ciao avete appena visto un deficiente? questo? questo è Grazie.